Good morning Genova! Ciao amici! Io vi faccio degli auguri, dei miei migliori auguri per questa Befana, questa festa dell'Epifania che in Liguria si festeggia dal Cinquecento con questo detto Epifania, tutti i milanesi li porta via. E lo festeggerò invitandovi anche a voi a cucinare piatti tipici della cucina Ligure, della tradizione Ligure che sono le trofie che saranno condite con questa bellissima cassola tipica dell'Epifania Ligure, c'è anche il detto Epifaniola, si mangia la cassola. Quindi buon tutto e buona cassola anche a voi!